amici di inno al cinema bentornati sul canale primo mattino non ho potuto registrare questo video ieri sera perché sono tornato a casa dopo le due non facevo oltre le due dal 2004 probabilmente infatti sono anche psicofisicamente provato no scherzo ovviamente ovviamente non sono ancora così malandato nonostante domani sia il mio ultimo compleanno con il 3 all'inizio del numero chi mi segue sui social avrà visto che nelle ore scorse ho pubblicato un paio di storie nelle quali insieme al buon Lorenzo Pari commentavamo la nostra esperienza durante la visione della maratona della trilogia maratona al cinema ovviamente della trilogia dedicata al personaggio di Maxine e anche a quello di Pearl diretta da Ty West interpretata da Mia Goth ovviamente trilogia composta dai film X, Pearl e Maxine che oltre alla mezzanotte è stato proiettato in anteprima il film sarebbe dovuto uscire oggi inizialmente nelle sale italiane invece c'è stato un rinvio di una settimana al 28 agosto visto che l'uscita a quel punto sarà in concomitanza con la presenza del regista appunto Ty West in quel di Roma per presentare il film con il pubblico e la stampa Maxine, Maxine questo terzo e ultimo capitolo della trilogia thriller horror dedicata appunto alla protagonista interpretata da Mia Goth già vista in X era ovviamente assente da Pearl che si svolgeva una sessantina di anni prima chi mi segue lo sa avrete già visto le due recensioni dedicate a X e Pearl al contrario della maggior parte del pubblico non solo a quello appassionato di horror ma pubblico in generale il mio rapporto con questa opera frutto della collaborazione tra Ty West e Mia Goth è decisamente più turbolento della media degli appassionati X l'ho trovato all'epoca un film gradevole assolutamente ben diretto non mi permetterò mai nel corso di questo video di criticare la qualità tecnica come regista di Ty West che già avevo potuto apprezzare in passato in film come soprattutto House of the Devil che per me resta il suo film migliore senza alcun dubbio film che ovviamente omaggiava un certo tipo di horror rurale americano anni 70 e 80 che poi è stato ripreso a oltranza e ancora viene ripreso a oltranza ogni anno ogni decennio che passa mentre nei confronti di Pearl visto in anteprima mondiale al festival di Venezia una partecipatissima proiezione di mezzanotte con presenti in sala appunto Mia Goth e Ty West sono sempre stato più drastico l'ho sempre trovato un film pasticciato eccessivo sopra le righe tronfio assolutamente gratuito e per niente interessante so di essere impopolare in questa mia posizione ma tant'è devo dire che inizialmente un po' temevo questa esperienza totalmente immersiva di quasi sei ore in sala appunto la maratona di ieri sera con tutti e tre i film proiettati uno dietro l'altro col senno di poi devo dire che sono molto contento di aver deciso di non presentarmi direttamente a mezzanotte per vedere solo l'ultimo film ma di aver visto le tre opere consecutivamente perché da un certo punto di vista ovviamente l'evento mi ha permesso di ripassare i primi due film e di poterli mettere ancora più in stretto rapporto con appunto il nuovo titolo Maxine il finale della trilogia e devo dire che molte delle mie impressioni sui primi due film si sono diciamo confermate X era solo la seconda volta che lo vedevo ammetto nonostante abbia comprato ai tempi dell'uscita la steelbook 4k uscita per midnight factory non avevo ancora avuto diciamo lo spunto la voglia di rivederlo a casa quindi avevo un'idea molto ben formata nella mia testa di come fosse il film Pearl ero alla terza visione perché dopo averlo visto a Venezia l'avevo rivisto in un video proprio per girare la recensione senza spoiler che non avevo potuto fare per un'uscita cinematografica che nel nostro paese non c'è mai stata di fatto le maratone di ieri credo che siano state le prime proiezioni in assoluto sul grande schermo nel nostro paese del secondo capitolo della trilogia di Thai West dunque appunto il primo film lo trovo gradevole ben diretto ma decisamente derivativo c'è come punto principale di interesse questo ovviamente ragazzi sui primi due film parlo in libertà gli spoiler sono free per il terzo film per la novità Maxine c'è diciamo al centro della trama questo interessante e morboso rapporto tra le età le diverse generazioni e il sesso la carnalità il desiderio la possibilità di abbracciare queste sensazioni e queste emozioni c'è una buona dose di gore però ripeto per quanto mi riguarda nel 2024 questo tipo di horror così derivativo per quanto ben eseguito per carità ci mancherebbe altro lo trovo molto fine a se stesso è anche vero che davanti a quello che per me è un film mezzo disastroso e quasi insopportabile come Pearl X mi è sembrato subito dopo la revisione del secondo capitolo non aprite quella porta di To Boo per Pearl ragazzi ripeto mi dovete perdonare dovete avere tanta pazienza o voi fan accaniti del film io lo trovo veramente un film pretenzioso vuoto basato tutto appunto su momenti dilatati all'eccesso io il monologo finale della protagonista non lo sopporto so che per molti è un momento di altissimo cinema non sopporto sinceramente neanche il modo in cui per tutto il film recita Mia Goth assolutamente senza nessun tipo di direzione di paletto troppo Pearl è decisamente troppo con pochissimo tra le mani ma appunto dopo X dopo Pearl dopo la mezzanotte ieri sera è arrivata la visione di Maxine chi segue il canale chi segue Innocenti ma non troppo saprà che le mie aspettative per questo terzo film erano decisamente buone non dico ottimistiche viste diciamo le due precedenti esperienze ma speravo che potesse uscirne qualcosa di buono perché comunque i trailer mi avevano ispirato l'ambientazione del bel mezzo degli anni 80 in quella di Hollywood dei tempi delle VHS del porno dell'horror da cassetta più estremo è roba che a me gasa ed emoziona sempre c'erano poi degli innesti nel cast importanti Kevin Bacon Giancarlo Esposito Bobby Cannavale Michel Monan Emmanuel De Bicchi insomma tantissime Elisabeth De Bicchi ho sbagliato nome chiedo scusa insomma tanta roba che poteva ispirarmi purtroppo per quanto mi riguarda non ci siamo ora da un punto di vista prettamente personale ho preferito la visione di Maxine a quella di Pearl se dovessi fare un ideale classifica della trilogia veramente X sarebbe al primo posto staccatissimo al secondo ci sarebbe Maxine e al terzo Pearl perché al secondo posto Maxine? perché appunto nella sua semplicità nella sua essenzialità quantomeno gioca con delle situazioni con un'ambientazione con un tipo di musica e background storico sociale che mi gasa di più della storia di una disgraziata di fine anni 10 che ne fa di cotte e di crude c'è questo approccio molto da VHS style da parte di Ty West che però mi dispiace proprio dirlo mette sul tavolo una serie infinita di spunti che dire che restano solo abbozzati sarebbe fare un favore al film West mette veramente di tutto in questo film la cornice storica con la presenza assolutamente inutile per quanto mi riguarda tramite vari telegiornali insomma e riferimenti alla figura del serial killer realmente esistito The Night Stalker tra l'altro vi consiglio caldamente la miniserie documentaria Netflix dedicata a quel caso perché è una delle migliori serie true crime che abbia visto negli ultimi anni assolutamente eccezionale ci sono echi argentiani è una delle prime cose che tra amici ho visto che si discuteva ieri sera dopo la visione prima che mi coricassi sì ci sono echi argentiani nel senso che a un certo punto a più riprese nel film c'è una figura guantata di nero basta così poco una reference visiva e di messa in scena per essere argentiani io credo proprio di no ci sono echi di Scream 3 visto che c'è violenza nel mondo del cinema hollywoodiano e ville dalle quali si rischia di non uscire sulle proprie gambe ci sono echi addirittura da c'era una volta a Hollywood c'è il giochino metatestuale dei set della star che vuole farcela a tutti i costi la Maxine che ci ricorda fin dal primo film c'ha anche un po' rotto i coglioni detto tra amici che vuole essere una star e che non vuole accettare una vita che non si merita ma c'è sullo sfondo questo messaggione il film c'ha un messaggione se c'è un film rouge che lega i tre film è questa sorta di critica o comunque di riflessione sul mondo dello spettacolo e sulla voglia di apparire di essere famosi che prende le persone le distrugge le trita o alla meglio tira fuori da esse il peggio di loro peccato che ripeto dirresti tutto a livello molto molto elementare questo film è palesemente una sorta di difesa barra utilizzo un termine che io odio lettera d'amore al cinema horror al cinema estremo spesso attaccato dai buonisti che poco capiscono del mondo fatto sta che per sottolineare questo messaggione che è il più banale didascalico della storia del cinema ogni 10 minuti Ty West sente il bisogno di non è uno spoiler ovviamente riprendere i manifestanti che fuori dagli studios con i cartelli denunziano il peccato la natura peccatrice della Hollywood che è piena di sangue e di sesso mamma mia quanta quanta scolasticità a questo si unisce il fatto che un po' come in Pearl piuttosto invece di avere una trama il film è una sequela di situazioni piene di cliché molto anche sinceramente prive di mordente e di qualsivoglia tipo di emotività e si esce dalla visione di Maxine quasi con la sensazione di aver visto un film che dice vorrei ma non posso visti in modo consecutivo questi tre film sembrano condividere una caratteristica molto molto importante quella di cercare di nascondere dietro a una messa in scena estetizzata stilizzata un po' glamour una carenza narrativa che viene tra virgolette a livello molto superficiale compensata da questi concetti che sembrano molto intelligenti molto organici all'interno dell'horror e del thriller americani che però sono ripeto veramente nel 2024 quanto di più banale stantio si possa applicare alla poetica del genere ripeto ho preferito la visione la prima visione di Maxine alla terza revisione di Pearl probabilmente il film rimane talmente sul superficiale che non arriva a essere insopportabile come Maxine che secondo me tra i tre è quello che un po' se la sente di più come film però il dispiacere è anche vedere tanto tantissimo potenziale sprecato così ci sono situazioni dalle quali io già dai trailer speravo di tirar fuori quantomeno qualche sorriso qualche amico qualche reference che fosse ben più di una semplice citazione estetica o cinefila tutto sommato io ho arrivato alla fine di questa trilogia e mi sento di definire quest'opera di Ty West creata a Braccetto con Mia Goth una sorta di discount del cinema horror veramente un'opera divisa in tre capitoli che prende tutto quello che si sa che emoziona gli appassionati un po' della domenica permettetemi del cinema horror e questi film sanno quale tasti toccare presso il pubblico sanno cosa accende un certo tipo di facile superficiale entusiasmo in un certo tipo di appassionati e si accontenta di fare questo invece di cercare qualche forma un attimino più intelligente e fuori dai canoni e dalla banalità mi sento di dire di un certo tipo di cinema horror americano peccato peccato perché per quanto mi riguarda soprattutto in X e Maxine c'è tanto tanto potenziale ma lo ripeto cito solo Maxine perché davanti a Pearl e Maxine X sembra quasi un film d'autore vero e proprio sembra non aprite quella porta appunto e dico peccato perché in Maxine c'era l'ambientazione giusta le idee giuste per quanto trite e ritrite e una mancanza di mordente da un punto di vista narrativo soprattutto nella terza assurda veramente quasi ridicola parte il potenziale resta tale e non viene mai sfruttato e quindi va sprecato Mia Goth ragazzi per me è una donna affascinante che a tratti sa anche recitare ma probabilmente si è convinta di stare girando i film della vita dei film generazionali in grado di cambiare il genere di cambiare il cinema e quindi è costantemente in overacting anche abbastanza insopportabile vedasi appunto gli infiniti primi piani e monologhi di Pearl tronfi fino all'esasperazione non siamo a quei livelli in Maxine ma la recitazione è talmente caricata che a un certo punto ti viene da dire anche meno cara mia anche meno mentre a Ty West si potrebbe dire in conclusione qualcosina in più caro Ty perché ripeto non mi sognerei mai di dire che Ty West non è un regista in grado di dirigere roba di qualità credo che in questa trilogia si sia fatto prendere un po' la mano dal citazionismo e dalle facilonerie quando con poco pochissimo di più si poteva forse avere qualcosa di decisamente più interessante credo che arrivati nel 2024 l'horror citazionista così gratuitamente l'horror così teorico in maniera scema mi permettete la solita battuta dal letterbox non sia la strada da percorrere o quantomeno che a me interessa di percorrere nel genere horror sempre più prigioniero da un certo punto di vista di codici e percezione superficiale da parte di un pubblico per quanto mi riguarda mi perdonerete poco attento queste sono le mie prime opinioni su Maxine non so se in futuro ne riparleremo se Paolo tornato dal suo mese all'isola d'Elba riuscirà a recuperarlo sicuramente ci scanneremo su Innocenti ma non troppo quando la rubrica tornerà dopo la sosta estiva sono sicuro che a lui piacerà il film tanto è un disgraziato per me veramente siamo davanti a un minimo sindacale che fa più rabbia che regalare soddisfazioni ma appunto sono sicuro che molti di voi abbiano partecipato a queste maratone ieri sera quindi se avete visto Maxine fatemi sapere la vostra nei commenti sotto a questo video il film poi appunto uscirà nelle sale italiane la prossima settimana il 28 agosto attendo i vostri commenti anche a partire da quella data in chiusura ragazzi vi ricordo che stasera mercoledì 21 agosto si terrà l'ultima live pre-veneziana sul canale movie talk show formato doppio parleremo di Trap e Alien Romulus con ospiti Paolo Riberi e alcuni degli abbonati di livello pro del canale ragazzi in questi giorni l'ho già detto alla fine di tutti i numeri del lunedì lunedì mattina ho veramente le ore contate e non riuscivo a fare più di questo singolo ultimo contenuto quindi questa è la recensione di Maxine e in generale un punto di vista globale sulla trilogia di Ty West e Mia Goth stasera c'è questo contenuto non so se da qui alla partenza arriverà un ultimo contenuto una recensione senza spoiler o qualcos'altro qualora non ci vedessimo più dopo stasera prendetela appunto come una necessaria e ben meritata spero pausa dalle attività del canale che però lo sapete continueranno anche dal Lido con la recensione di Beetlejuice Beetlejuice quella di Joker Foglia 2 e in generale dagli aggiornamenti all'interno della rubrica Inno a Venezia aspetto i vostri commenti su Maxine e vi lascio con i soliti consigli di fine video se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi a Inno al Cinema attivate la campanella delle notifiche per sapere quando tutti i nuovi contenuti arrivano sul canale per restare sempre aggiornati sulla nostra programmazione e seguite la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete anche il mio profilo Instagram privato Michelin85 sul quale sono decisamente più attivo più siamo meglio è in questa folle famiglia di appassionati di cinema serie tv fumetti libri e tutto quel che ne consegue quindi condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici ai vostri peggiori amici Maxine è nelle sale dal 28 agosto fatemi sapere la vostra un saluto e alla prossima